Avrebbe prescritto ad un paziente cure alternative, intrugli a base di funghi, sconsigliando nel ricovero. Il paziente è deceduto e il medico è finito a domiciliari con l'accusa di omicidio colposo. L'arresto è stato eseguito dalla Digos su richiesta della procura di Catanzaro. Il medico, un ginecologo di Teramo conosciuto come Novax, avrebbe curato per telefono con terapie alternative il paziente residente in Campania, affetto da molteplici e gravissime patologie come cardiopatie, e ipertensione e diabete, deceduto poi per infarto. Il giorno prima del decesso, avvenuto in Campania, la moglie dell'uomo aveva chiamato il medico che le aveva sconsigliato nuovamente di portarlo in ospedale, suggerendole nuovamente i suoi funghi curativi. Il telefono del ginecologo, già destinatario di un provvedimento non definitivo di radiazione da parte dell'ordine dei medici di Teramo, era però sotto controllo. Le intercettazioni erano state disposte alla procura di Catanzaro nell'ambito di un'altra indagine ancora in corso nei confronti del professionista. È così che è emersa la vicenda del paziente campano. La procura ha quindi chiesto l'emissione di un provvedimento urgente per evitare la reiterazione del reato e il GIP l'ha accolta, pur dichiarandosi incompetente territorialmente. Gli atti sono stati trasmessi a Teramo. Secondo l'accusa, il medico avrebbe proposto cure alternative alla medicina ordinaria, prive di validità scientifica anche in relazione ad una paziente affetta da Covid.